Megalopolis di Francis Forcop mi hanno detto che non è l'ultimo film perché ne sta già producendo un altro parrebbe ma di sicuro è un progetto in cui ha riversato tutto se stesso comprese le sue finanze 120 milioni si è venduto mezza vigna non gliel'ha voluto produrre nessuno fino a un certo punto non gliel'ha voluto distribuire nessuno perché poi adesso almeno in alcuni mercati europei sappiamo che la pellicola arriverà compresa l'Italia assolutamente ma ad esempio mi sembra che ancora oggi per gli Stati Uniti non si sia mosso nessuno mi pare di no ma secondo me arriverà anche se IMAX il circuito IMAX si è detto disponibile a proiettarlo incoraggiante allora noi possiamo basarci solo sulle reazioni del Festival di Cannes che sono state indubbiamente divisive indubbiamente prendendo a modello Rotten Tomatoes abbiamo conteggiate 52 recensioni che non sono tantissime anche perché l'hanno visto in pochi ancora fate conto che in media un film ad ampia distribuzione ottiene 300 recensioni bene o male ma questa è stata un'anteprima quindi infatti l'hanno visto in pochi e abbiamo il 52% di recensioni positive esattamente la metà ha spaccato in due la situazione diventa ancora più instabile se andiamo a verificare le recensioni dei cosiddetti top critic quindi coloro che scrivono per testate molto importanti che sono 26 delle 52 sono 26 esattamente la metà e di queste 26 recensioni 14 sono positive 12 sono negative il problema è la media voto perché la media voto di queste 26 recensioni è 3.9 quindi anche quelle positive non penso abbiano dato voti altissimi allora il discorso qua è che è proprio un film che mi parte divisivo quello sarà il classico film che o lo ami o lo odi e io so già sarà per me sarà una roba la Killers of the Firemoon metà persone che dicono un capolavoro un capolavoro altre che dicono due coglioni sono abbastanza convinto poi non so se hai letto la trama se hai letto più o meno di cosa parla è anche piuttosto folle come idea io ho cercato di tenermi un po' allo scuro so che siamo in una metropoli con i personaggi con i nomi romani sì perché è una società contemporanea cioè futurista futuristica ma con le abitudini degli antichi romani come si vede nel trailer la corsa con le bighe i gladiatori comunque io ti posso dire che Killers su Rotten ha il 93% di recensioni positive no no ma io ti parlo di percezione del pubblico secondo me come per no lascia stare la critica io ti parlo di percezione del pubblico per me sarà un po' come Killers poi ci sono già quelli che secondo me partiranno col devo difenderlo perché è di Coppola che per me è una cosa sbagliatissima perché non è che se Coppola ha fatto il badrino non può fare cagate ha anche 85 anni può starci poi io sono curiosissimo il trailer mi ha fatto io vedendo il trailer ho pensato è una delle pochissime volte in cui ho pensato ho visto il trailer di qualcosa che nel bene o nel male rimarrà un po' come quando vedi il trailer di Mad Max Fury Road che io dissi oh secondo me qua questa roba è qualcosa non mi sembrava il trailer di un normale blockbuster no no di sicuro non è un trailer anonimo diciamo che mi sa di finché che sia bello che sia brutto qualcosa ti lascia o lo odi in maniera estrema o lo ami in maniera estrema mi dà quell'idea lì le recensioni che io ho letto io ho sentito anche gente che conosco che è andata ho parlato con Paolo Cellammare ho visto le recensioni di Teo di Cinefax Paolo ad esempio ha detto che per lui è un film che ha delle cose interessanti ma non l'ho convinto fino in fondo Teo invece era estasiato quindi boh però non me ne cioè con quelli con cui ho parlato mi hanno detto che è una cosa che comunque ti rimane che ti piaccia che non ti piaccia e non è uno di quelli che svaniscono nella mente è una roba è una roba comunque e io sono curiosissimo poi c'è Adam Driver quindi per me è già venduto c'è Giancarlo Esposito c'è un cast c'è Dustin Hoffman c'è un sacco di nomi importantissimi quindi anche solo per quello finché va visto non si sa quando uscirà da noi spero non troppo tardi onestamente vedremo però il trailer è particolare il trailer io quando l'ho visto ho detto figa comunque non è un trailer che passa inosservato secondo me indubbiamente è comunque coppola quindi qualcosa avrà fatto di interessante con questo film nel bene e male vuoi leggere qualche estratto per farci un'idea all'insegna del divertimento hai un link da passarvi sì c'erò tentometro se vuoi ma posso leggerlo anch'io pensavo pensavo ci fosse il classico sai il classico articolo con le varie ah può darsi che l'abbiano fatto altrimenti qua davanti cerco di tradurvi il traducibile facciamo tre positive e tre negative dai tre il numero perfetto io non ho letto alcune posso posso anche dire una cosa prima c'è la domanda candidato agli Oscar ragazzi io io ho capito io ho capito una cosa che gli Oscar di quest'anno sono piaciuti molto sono rimasti impressi c'erano film che piacevano però adesso non è che ad ogni caspita di pellicola un minimo interessante Oscar come facciamo a saperlo dobbiamo arrivare alla fine dell'anno siamo solo all'inizio gli Oscar l'anno prossimo saranno quando a marzo fine febbraio inizio marzo aprile aprile addirittura aprile quindi ma sono state l'aprile no non mi ricordo più io tendo a dimenticarmi le date sono veramente un disastro il 10 marzo ok facciamo che anche l'anno prossimo sono il 10 marzo ma manca un anno di programmazione cinematografica e vi ricordo sempre che poi i candidati nella rosa dei 10 protagonisti che sono i 10 migliori film almeno un terzo sarà composto da pellicole di cui non conoscevamo l'esistenza prima che leggessimo la candidatura eh sì a maggio 2023 sapevamo di anatomia di una caduta no di di oldovers no e ne ho solo citati due quindi tempo al tempo ma è è così da sempre la maggior parte dei film che tu quest'anno c'è stata l'eccezione effettivamente ma di solito la maggior parte dei film più quotati sono sono usciti fino a autunno inizio inverno poi quest'anno c'è stato la zona la zona di interesse esatto a maggio 2023 la zona di interesse è stata però c'è da dire che è stata un'eccezione di quest'anno perché di solito sono quasi sempre film usciti nel periodo recente quindi quindi dobbiamo aspettare andiamoci piano poi a fronte di queste recensioni io dubito altamente di vederlo agli Oscar ma ne dubito altamente anche perché non avendo la distribuzione in America se non rispetta le regole di distribuzione degli Oscar non può neanche partecipare no poi tra l'altro sì che deve stare per almeno due settimane in un certo numero di sale a Los Angeles sì mi pare tra l'altro tra l'altro io ho come l'impressione che sia già che stia già uscendo il film che si beccherà più Oscar tecnici però sbaglierò ah capito cosa ti riferisci ne parliamo comunque dai veramente le prime recensioni che mi appaiono cominciamo da quelle negative perché è più bello chiudere in bellezza Total Film dice è difficile concentrarsi sulla narrazione quando i dialoghi sono manieristici al punto da distrarre e ogni performance attoriale sembra provenire da un film diverso ok poi bbc.com è come ascoltare qualcuno che vi parla di un sogno pazzesco che ha fatto la notte prima e questo qualcuno non smette di parlare per due ore bella questa questa mi è piaciuta Toronto Star è difficile credere che lo stesso brillante regista che ha creato il padrino Apocalypse Now abbia dato vita a questa mostruosità almente sbagliata in così tanti modi diversi dalla sceneggiatura insipida alla terribile direzione al casting bizzarro vabbè mi sembrano non so mi sembrano quelle recensioni da punta al cazzo a sentirle così magari poi è vero però cioè di solito sono quelle recensioni che si leggono dei filmoni della madonna che chi scrive le recensioni non ha capito proprio per niente di solito sono sempre magari no però di solito quando leggi queste robe qui poi vai in film lo guardi e dici ma che cazzo ho visto ci sono delle volte che vorrei avere gli occhi di certi critici che ha scritto delle recensioni cattivissime per film della madonna però non lo so scusate devo leggere altre due che tanto sono brevi perché sono pazzesche financial times forse la cosa più gentile che si può dire di megalopolis è che probabilmente rimarrà per larga parte non visto e facilmente dimenticato vabbè non lo so mi sembra strano però ok che coppola non è dio però non ha mai fatto film così orrende figa il The Daily Beast aspetta questa è la più è cattiva no è particolare dice megalopolis è eccessivo sopra le righe pieno di CGI dozzinale e in definitiva un casotto eppure posso riuscire a immaginare una sala piena di spettatori che urlano assieme a John Voight in una scena chiave del film questa frase cosa devo fare del durello che ho non so se prenderla bene o male beh ma mi hai già descritto un capolavoro di scena quindi va bene questa secondo me è positiva ve lo dico secondo me è una di quelle cose che cioè è una di quelle scene è una di quelle recensioni per cui il film non è piaciuto ma ne riconoscono la potenzialità può essere ma possiamo quelle positive dai esatto Slate dice Megalopolis è il prodotto di un uomo che ha cercato di mettere tutto se stesso nel suo lavoro e che ci sia riuscito o meno è interessante vedere i suoi tentativi ok quindi non è proprio positivissimo in realtà l'independent in definitiva non è l'incidente stradale che poteva essere resta però profondamente difettoso e molto eccentrico sì non sono positivissime vedete che anche la positività fino a un certo punto ma io penso che probabilmente sarà uno di quei film un po' senili dove vuoi fare tutto anche Scorsese comunque negli ultimi anni ha fatto dei film che magari avevano i loro difetti e The Irishman non è perfetto però ad avercela non so sto cercando qualcuna magari più smaccatamente tipo inversa un insieme di idee schiacciate insieme in un'eccessiva assurda per certi versi atroce e totalmente udace rigetto della forma cinematografica non sarebbe mai dovuto essere stato fatto eppure ora che c'è sono grata che esista che cazzo vuol dire purtroppo purtroppo quando quando si leggono le recensioni è il problema della critica secondo me perché io adesso chiedo la chat ma vi ha parlato questa recensione cioè io sembra che ormai molti critici facciano le recensioni per leggersi tra di loro perché una io immaginati adesso faccio l'immagine estrema immaginati il metalmeccanico che torna a casa legge questa recensione e pensa ma che cazzo l'uomo della strada però New York Magazine megalopolis potrebbe essere la cosa più pazza che abbia mai visto ma mentirei se vi dicessi che non mi sono divertito ogni singolo istante e finalmente ci sta finalmente poi c'è chi utilizza paroloni intraducibili Los Angeles Times una volta che si capisce che non ci troviamo davanti a un altro capolavoro di Coppola c'è comunque molto da apprezzare in particolare il suo cast che si che vuol dire sta roba cosa dice che si concedono al pubblico con forse intende dire le performance sembrano molto genuine e vanno al di là di una semplice richiesta di lavoro ok quindi li ha visti molto coinvolti comunque un film che sta facendo discutere le bene o le male direi proprio direi proprio di sì tanto basta per me basta quello eh di certo io dopo questa rassegna stampa sono ancora più incuriosito a voglia e se fosse una fetecchia Victor no io non ho problemi cioè se è una fetecchia mi dispiace pazienza cioè sono contento che l'abbia fatto perché uno che ha fatto il padrino Apocalypse Now e che non lo fa più lavorare deve vendersi la vigna anche se fosse una merda ha tutta la mia stima almeno ha avuto ha avuto il coraggio di dire vaffanculo di fare così a Hollywood e di dire me lo faccio io brutto bello non importa cioè prima ancora di vederlo è un film che stimo solo per il fatto che sia stato fatto in quel modo lì è un film che stimo